Una saccatura in quota sul sud Italia mantiene condizioni di instabilità anche sulla nostra regione. In Toscana, il lunedì 9 maggio, poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio, associata a rovesci e brevi temporali più probabili in Appennino e sui rilievi centro-meridionali, venti deboli settemprionali con temporanei rinforzi nel pomeriggio in arcipelago, mari poco mossi e temperature minime in calo, massime in ulteriore lieve aumento con punte di 25-27 gradi in pianura. Sulla nostra provincia cielo sereno o poco nuvoloso, a Lucca temperatura minima 11, massima 23 gradi, a Castelnuovo minima 10, massima 22 gradi, a Viareggio minima 13, massima 23 gradi. Grazie a tutti!